Ognuno ha le sue opinioni, credo che comunque Flavio, siamo amici, non dice mai cose banali, però ripeto, è una sua opinione e quindi è giusto ascoltarla, poi ripeto, Super Mario è chiamato, è un giocatore talmente forte, dobbiamo stare attenti per quello, poi per tutto il resto. Come personaggio tu, vedete, è giuberante, è giovane, è giovane, magari non la cresta non me la sono mai fatta, magari non potevo avere, no, a parte tutto, è un giocatore forte, i suoi atteggiamenti sono quelli, davanti agli occhi di tutti, poi uno risponde, tanti saranno gli esordienti domani, dall'altra parte ci sarà l'entusiasmo che magari uno che tanti anni che fa la Serie A magari è un po' meno, quindi avremo altre armi, come ho detto prima, da mettere per contrastare la loro qualità superiore, la loro esperienza. Dicevo prima, al di là dei moduli credo che sia importante come si sta in campo, quindi dobbiamo stare molto accorti, corti, stretti, raddoppiare, fare una partita da squadra, da squadra, da squadra, l'unica cosa che chiede è quella, poi il risultato a volte è frutto anche di tante altre situazioni, poi non dipendono magari tante volte neanche da tutto quello che abbiamo detto, ho visto, gli dicevo prima un po', vedo negli occhi che già un po' di giorni che vivono queste esordie, per molti la prima volta, insomma, al di là di quello che può essere il mio percorso, non so, anche uno un poco giovane come Maietto oppure Caccia, insomma ci arrivano dopo tanti anni, una vita di sacrificio come si dice, quindi la partita credo che servano un po' con le parole, era bello, bell'ambiente, dobbiamo vedere se siamo pronti a sopportare questo carico di responsabilità che credo che comunque sia una responsabilità bella, importante e da vivere.